Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati con il nuovo vlog. Niente di che che adesso stiamo facendo un giro a Lidl dove compriamo carne, prosciutto e carne di amine che serve per preparare la mangiare e niente di che che adesso stiamo dal repatto carne e praticamente mamma adesso sta selezionando la canna che dobbiamo comprare. Che canna hai comprato mamma? Le stecchine di mangiare che sono buonissime fatte da nonna. C'è anche il filetto. Cosa cosa è il filetto? Il filetto? Va bene, andiamo. Ok, dice, ora te lascio stare. Poi ci sono anche le polpettine buone. Non possiamo, abbiamo già anche comprato questo? Eh sì, infatti. Vabbè, niente di che stavamo facendo un giro e che adesso continuiamo a farlo e poi tornerò a casa. Per oggi è tutto, lasciatevi anche iscrivetevi al canale, se anche voi oggi siete un po' in vena di farvi un giro, come faccio io. Anzi, di farvi una pipa alla vacanza. Per oggi è tutto, da Asi, Bianchi, out!